è giusto parlare della guerra ad un bambino assolutamente giusto per parlare di guerra a un bambino bisogna partire spiegando la guerra ai bambini parlando di pace forse questo è il concetto principale con cui dovremmo approcciarci a un bambino quindi far capire che l'aggressività la violenza non porta mai a nulla magari facendo anche degli esempi concreti possiamo far vedere anche delle immagini naturalmente selezionandoli e devono essere alla portata di un bambino io penso che la prima cosa da fare per parlare di guerra ai bambini è dire la verità cioè raccontargli quello che è conflitto spiegarli anche attraverso appunto l'immagine attraverso l'analogico quello che sta quello che sta accadendo però ecco andrei a fare una selezione accorta perché altrimenti ripeto il rischio parliamo di scuola di bambini comunque piccoli no scuola primaria parliamo di bambini che vanno dai sei anni ai dieci anni insomma quindi bambini teoricamente ancora non in grado di riuscire elaborare il concetto di guerra in maniera come dire importante e come ce l'abbiamo noi quindi non riuscirebbero a gestire l'impatto emotivo di foto così forte sono esempi importanti quelli di della vita concreta reale no per esempio un bambino si può spiegare il concetto di guerra raccontandogli quando magari sta con un suo coetaneo con un fratello e magari iniziano a discutere per un giocattolo da utilizzare no quello grande grande classico lì potrebbe essere proprio un'opportunità per raccontare e spiegare proprio il concetto della guerra no tutti e due vogliono lo stesso oggetto discutono per un oggetto e per chi lo deve avere prima per chi lo deve avere dopo per chi lo deve avere e per chi non lo deve avere e in realtà si può usare questo espediente questo esempio per fargli vedere quanto noi ci arrabbiamo e quanto poi arrabbiarsi di per sé non porta a nulla perché poi magari arriva una persona più grande un adulto e tende a essere lui in qualche modo a gestire questa cosa no che si chiama mediazione e questo è un modo per parlare ai bambini per esempio di di guerra quindi di fargli vedere che attraverso la discussione l'aggressività non arrivano a nulla e solo attraverso la mediazione il dialogo una sorta di accordo che andranno a trovare che potranno gestire entrambi le cose in maniera differente